Deve restare in carcere il 67enne responsabile dell'incendio nella marina di Pulsano che il 30 luglio scorso è costato la vita all'86enne originaria di Andrea, Rita Fasanella. Oltre ad aver provocato ingenti danni ad abitazioni, strutture ricettive, è mandato in fumo 50 ettari di macchia boschiva. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame, rigettando la richiesta di scarcerazione presentata dal legale dell'indagato. Pasquale Tomai Pitinca è accusato di incendio doloso e della morte della donna come conseguenza del rogo. Per il giudice, l'uomo aveva agito con una condotta cosciente e volontaria, dando intenzionalmente alle fiamme un terreno incolto e determinandosi a farsi giustizia nell'immediato da sé. Il legale del 67enne sostiene invece che una parte della responsabilità dei danni provocati dall'incendio sarebbe da imputare ai vigili del fuoco che avrebbero concluso le attività credendo erroneamente che l'incendio si fosse estinto. Per questa ragione, secondo la difesa, il nesso tra la morte dell'anziana e l'evento incendiario sarebbe venuto meno. Una rilettura dei fatti di quel tragico giorno che non ha convinto il Riesame. Il 67enne è stato individuato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza di un'abitazione privata rintracciato e interrogato dai carabinieri. Aveva ammesso le proprie responsabilità spiegando che le sue intenzioni erano quelle di ripulire il terreno dall'erbacce. Non immaginando le conseguenze, il suo avvocato ha anche aggiunto che il suo assistito nel corso del ruogo avrebbe collaborato per spegnere le fiamme. Le ipotesi di reato che gravano sul 67enne si sono poi appesantite dopo che l'86enne ha perso la vita il 1 agosto nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il suo legale ora attenderà le motivazioni del Riesame per poi eventualmente impugnare la decisione in Cassazione.